Eccoci qua nella spiaggia 41 bis, questo è il motivo di tanta pioggia. In questo vestitino frema mai, mia suocera aveva preso per lenta e 46. Appena ha saputo che non c'era l'acqua a posto. Si mi spava, mettilo tu che la frequenterai per l'acqua. Guarda che figo il mare, scusami guarda il mare che bello che è. Mi ha regalato per Natale. Guarda che dopo metto su Youtube sai di tua suocera perché sto facendo. Allora, facciamo le presentazioni, lei è Mario. Buongiorno. Lui è Nicolò, ciao Nicolò. Ciao. Lei è una bella. Lei è una bella detta portastiga. Bene. Lei è l'Elna. E questa per la bambina chi è? Questa per la bambina chi è? Questa per la bambina chi è? Questa bella. E questa? E questa? E questa popolotta? Occhio, mi piove dentro nei sandali. Spostami i sandali, per favore. Bene. 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 Grazie